Oh, guarda là, guarda, 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 guarda che gambe, guarda, mi piace, faccio velino, faccio, faccio velino, eh, madonna, che l'altro, e apri gli occhi, che stanno venendo, eh, che stanno venendo, vedi, guarda, guarda, potevamo rimanere là un po' in piscina, Oh, bella, buona, buona, madonna, le tette, hai visto le tette? Che non ho viste, perciò è meglio che dormo, se no mi agito, le tette mi piacciono, Tettologia, dovrebbe essere una materia, una materia, una materia, però mi devono ancora spiegarlo, Come mai Dio ha fatto la donna con due tette? Sicuramente l'idea l'è venuta dopo che a noi ha dato due mani, dovevamo la metterla, ma a qualche parte diceva la metterla, sono due, voglio dire, parco un diccio, diciamo, è un automatico, è tutta una logica.